Aumentano gli infortuni, aumentano quelli più gravi. In provincia di Brescia, secondo i dati dell'INAIL elaborati dalla CISL, nel primo semestre dell'anno sui luoghi di lavoro si sono verificati più incidenti rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è aumentato in maniera significativa il numero degli infortuni mortali. Erano stati 16 nel primo semestre del 2023, sono 20 le persone morte in fabbrica, in cantiere o nei campi dall'inizio di gennaio alla fine di giugno. Aumenta anche il numero complessivo di infortuni, poco più di 8.000 quest'anno, 59 in più rispetto al primo semestre 2023. Nel nostro territorio finora sono stati due gli infortuni significativi. Uno a inizio giugno in un cantiere edile a Ponte di Legno, dove un giovane muratore di origine africane era stato colpito da un pannello mentre si trovava all'interno di un'area di scavo e uno a inizio luglio in Lucchini a Lovere, dove un operaio di esine era stato colpito al volto da una sbarra di ferro. In quest'ultimo caso il pieno recupero per l'infortunato è ancora lontano. Secondo Paolo Reboni, della segreteria provinciale Cisle di Brescia, non bisogna rassegnarsi, gli infortuni devono diminuire e quelli mortali vanno azzerati.